Saluti a tutti, buon dia a tutti. Io sono Adria Martin, sono un catalano vicino a Barcellona, sono docente all'Università Autonoma di Barcellona e oggi sono qui per presentarvi un paio di iniziative che poco hanno a che fare con l'ambito accademico. Si tratta di una trasmissione televisiva e di un cd di musica. Per quanto riguarda la trasmissione televisiva si chiama Beni con me, in sardo vieni con me ed è un viaggio alla scoperta delle varie lingue e culture che vi sono nell'isola di Sardegna. È stata girata nel 2019 insieme all'amico Mauro Pes di Eia TV e Terra del Pun per Rai 3, Sardegna. È un viaggio in furgone alla ricerca di persone che lavorano con le lingue e le culture dell'isola di Sardegna, musicisti, attivisti, gente che lavora alle istituzioni, eccetera. Mei inizidasi cittadini, vivendi a prumoni vrenu, insaradio inti di mani, avvolginelli con travento, quasi solo a me in si strada, panoramica debosa, quando il scoppia da su grogu, e su froride mimosa in santo su, beni, beni con me. Quindi la trasmissione è fatta e composta da sei puntate, una per ognuna delle lingue di Sardegna che sono il Ligure Tabarchino, a sud ovest dell'isola, l'arcipelago del Sulcis, il catalano di Alghero, il turritano o sassarese nell'area nord-occidentale, gallurese nell'area nord-orientale e il sardo nella maggior parte dell'isola. Siccome il sardo occupa un vasto territorio, abbiamo dedicato due puntate alle varietà, una per le varietà del nord, del centro nord, e una per le varietà del sud, o appunto quella di Cagliari, del capoluogo. Noi abbiamo scoperto in questo viaggio, che è stato girato esclusivamente nelle lingue di Sardegna, abbiamo scoperto quanta gente da anni sta lavorando per tenere ancora vive queste lingue, queste conoscenze, e abbiamo anche scoperto che tante volte c'è un certo disagio nelle persone che le parlano per la progressiva scomparsa di queste lingue. Quindi nel frattempo che stavamo girando questa trasmissione, anche per il fatto che l'amico Mauro, cameraman di AIA TV, anche lui è un musicista, abbiamo cominciato a parlare della possibilità di scrivere anche e di incidere la colonna sonora. Quindi abbiamo scritto delle canzoni in catalano di Barcellona, in catalano di Alghero e in sardo, e le abbiamo incise in questo CD, Lusum Ries della Magrana, che ho pubblicato col nome di Adrià Amor. Forse sapete che noi qua in Catalonia abbiamo due cognomi, il mio nome intero è Adrià Martin Amor, però per la musica ho scelto di pubblicare il CD con il mio secondo cognome. Troverete tutte le canzoni che possono essere scaricate liberamente con licenza Creative Commons dal sito web www.adriamusic.cat, perché pensiamo che le lingue minorizzate a rischio di estinzione debbano avere una cultura che sia facilmente accessibile a tutti e a tutte. E niente, queste sono le mie due esperienze, spero che vi interesseranno, e vi mando un abbraccio da Barcellona. A Sibiri! A Sibiri!